Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Francesca Frongia, truccatrice della RAI e collaboratrice di diversi programmi televisivi, è morta. La notizia ha scosso il mondo della televisione e numerosi colleghi e amici hanno espresso il loro cordoglio. La redazione di Chi l'ha visto, programma condotto da Federica Sciarelli, ha pubblicato un messaggio di profondo dolore sul profilo Instagram. Anche Davide Di Pietro, consigliere di amministrazione RAI, ha voluto ricordare Francesca con un post su Facebook. Tra le persone più legate a Francesca c'era Bianca Guaccero, che le ha dedicato una toccante lettera sui social. Amica mia, come si fa? Come si può ora? Senza di te, ha scritto la conduttrice, ricordando il forte legame iniziato nel 2008 a Sanremo. Guaccero ha voluto ricordare i momenti di lavoro insieme, come quando Francesca passò una notte in bianco per truccarla da Michael Jackson in tale quale show, perché voleva che fosse perfetto. La conduttrice ha ringraziato l'amica per essere stata al suo fianco nei successi, nelle cadute e nelle semplici giornate. È stato un privilegio condividere il mio lavoro con te, ed è stato un regalo della vita. Condividere una lunga e indimenticabile parte del viaggio mano nella mano. Il dolore in questo momento è immenso. Proverò a trasformarlo in qualcosa che possa riscattare tutto quello che hai lasciato dentro di me. Ma ora non ci riesco. Non riesco. Grazie a tutti.